Amici calabrisi, vi voglio presentare Stucce di veramente suonato con il cuore Tarantelli in avuta, voi si chiamare Da Tossuraci, queste tarantelli le posso suonare Eppure sono poter fici partecipare Antonio e Vito, se siete pronti potete cominciare Stasera facete un descialare Attaccate un paro da Tossuraci E cose imperiali Eppure sono poter fici partecipare 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 ecco il pallo con pulito in posizione a Marocchina, Rato, Stagia e Voto Campari atti a simbolo, bravo di andava nekiai kirti it, casa bella Porta il tuo bambino sul caliente, che bella varandella! Portami il malvino così per legarsi al chilo! Alla palli il giro! Alla palli il giro!